Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video! Cosa succede alle ragazze durante il primo rapporto? La vergilità femminile è determinata dall'imene Uno strato sottile che ricopre l'entrata della vagina Può essere di varie dimensioni e a volte può essere anche elastico Un imene si può definire elastico ragazzi quando durante la penetrazione Si allunga diciamo così ma non si rompe Normalmente comunque l'imene si spezza ed esce un po' di sangue ma niente di speciale ecco La perdita del sangue ovviamente non succede a tutte le donne ma anche il dolore che sentono Cioè non a tutte fa male Scrivetevi qui sotto nei commenti se a voi ha fatto male Quindi ragazzi non a tutte esce sangue ma già dalla prima penetrazione non si è più vergini Ovviamente ragazze state tranquilli che la prima rottura non deve succedere per forza al primo rapporto Questo può succedere anche al secondo quando l'intimità femminile è più rilassata diciamo Perché appunto lo stress e l'ansia diciamo prima di un rapporto sessuale causano la rigidità del muscolo Di conseguenza ragazzi il dolore aumenta e l'imene potrebbe non rompersi Quindi ragazze state tranquille Ok ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti